medici introvabili le marche fanno ricorso da appalti privati 5 denunciati per i lanci di fango contro la sede della regione urbino 46 anni si barrica in casa per evitare lo spratto la ciclovia del foglia si farà al via i lavori nel 2023 pesaro entra nell'associazione della città dell'olio una buona serata cari amici e amiche di rossini tv e ben ritrovati con il nostro spazio dedicato all'informazione telegiornale di martedì 25 di ottobre che apriamo parlando di sanità il pronto soccorso marchigiani continuano a convivere con una carenza di personale sempre più insostenibile che come vedremo nel nostro primo servizio sta portando al ricorso sempre più frequente alla sanità privata ricorso a cooperative appalti privati medici a gettone è costretta giocoforza ad andare in questa direzione la sanità marchigiana per fronteggiare una carenza di personale che è diventata endemica al mondo spedaliero un ricorso ai privati che diventa il piano b per colmare le lacune dei concorsi pubblici che hanno dato pochi risultati l'azienda marche nord ha infatti attualmente in corso una gara del valore di 13 milioni di euro per affidare a cooperative esterne la consistente molle di turni che rischiano di rimanere scoperti e ora anche l'asur ha bandito un appalto di quasi 24 milioni per altrettanti mesi utili a sopperire alle carenze di personale nei pronto soccorso regionali meno medici più accessi al pronto soccorso più ricorso ai privati al cospetto di concorsi risultati infruttiferi basti dire che all'ultimo bandito dalla regione si sono presentati 13 candidati per 39 posti disponibili lavoratori che mancano e paradossalmente lavoratori a rischio e quello che lamentano i sindacati preoccupati dall'azzeramento dell'azienda ospedaliera marche nord in vista dell'imminente entrata in vigore della riforma sanitaria della giunta acquaroli sindacati che denunciano come 70 infermieri e 30 operatori sanitari siano attualmente in scadenza di contratto a tal proposito i sindacati incontreranno l'assessore salta martini l'otto novembre per un confronto sulla riorganizzazione del sistema sanitario ed ora passiamo alla cronaca le indagini della digos hanno portato a cinque denunce in seguito agli episodi di vandalismo e imbrattamento alle pareti della sede anconetana della regione Marche in occasione della manifestazione fridays for future del 23 settembre scorso si tratta di cinque giovani tutti residenti in regione ritenuti responsabili del lancio di fango nei confronti del palazzo regionale così come delle scale del muro d'ingresso il tutto accompagnato da scritte offensive realizzate con melma nei confronti degli appartenenti alle istituzioni mattinata turbolenta tra sanni di urbino dove la polizia è dovuta intervenire per eseguire uno sfratto di un 46enne dalla sua abitazione l'uomo si era infatti barricato in casa inchiodando gli infissi con assi di legno e bancali e brandendo una fiamma ossidrica verso gli agenti i poliziotti hanno iniziato una lunga trattativa mirata a convincere l'uomo ad esistere e approfittando di un momento di distrazione sono riusciti a irrompere nella casa immobilizzando il 46enne all'interno i poliziotti hanno trovato pure bottiglie contenenti benzina e diffusori riempiti con acido muriatico il 46enne è stato poi trasportato in pronto soccorso per accertamenti psichiatrici 9 milioni di euro per circa 41 chilometri di pista ciclopedonale queste sono le cifre del finanziamento stanziato questa mattina a pian del bruscolo dalla regione Marche per la nuova ciclovia del foglia che vedrà i lavori partire nel 2023 mobilitazione ecosostenibile riduzione delle emissioni atmosferiche con questi due principi di base oggi per l'intera vallata del foglia è stato un giorno importante saranno circa 9 milioni di euro quelli che la regione Marche stanzerà per la realizzazione di 41 chilometri di pista ciclopedonale che costeggerà il fiume foglia da pesaro a monte calvo passando per valle foglia e tavuglia e a mettere nero su bianco questa mattina si sono riuniti nella sede di pian del bruscolo il sindaco di valle foglia nonché presidente dell'unione palmi rucchielli la sindaca di tavuglia francesca paolucci la sindaca di monte calvo donatella paganelli maurizzo bartoli per la provincia e l'assessore regionale all'infrastrutture francesco baldelli un finanziamento notevole in linea con le risorse già stanziate dalla regione per la ciclovia adriatica ben 60 chilometri che da gabice mare porterà san benedetto del tronto collegando tutta la costa marchigiana per un costo totale di 27 milioni di euro ciclovia adriatica non basta dobbiamo unire tutta la nostra regione anche in un asse longitudinale quindi dalle nostre colline dalle nostre montagne nelle nostre colline fino ad arrivare al mare e la ciclovia del foglia è un asse fondamentale di questi collegamenti iniziamo dal questi territori per investire circa 5 milioni di euro su 15 chilometri di ciclovia che avranno una multifunzione quella di garantire innanzitutto la sicurezza dei nostri ragazzi che vorranno raggiungere le infrastrutture sociali penso alle piscine penso alle scuole penso ai campi e campetti da calcio ma per garantire alle nostre famiglie di poter ad esempio da tavuglia arrivare nel comune di valle foglia o di monte calvo in sicurezza questo è il nostro obiettivo per questo abbiamo accelerato acceleriamo anche sugli appalti che dovranno essere realizzati entro la fine dell'anno per vedere i lavori concretizzarsi nel 2023 a questo investimento ne seguiranno anche altri perché la regione a guida acquaroli non fa distinzione tra nord e sud della regione tra grandi e piccoli centri tra costa in dentro terra circa 5 chilometri se avete bene le carte a valle foglia circa 7 chilometri a tavuglia e circa due chilometri e mezzo mi pare nel comune di monte calvi in foglia quindi oltre 14 chilometri che si aggiungono il problema poi sarà quello ovviamente della gestione insomma del funzionamento però insomma le opere sono importanti perché noi stiamo pensando alla mobilità in cui la gente si dedica a scuola al lavoro magari in bicicletta magari a piedi stiamo ragionando con cgl cisluvile coi sindacati delle imprese per sottoscrivere un protocollo d'intesa per l'uso del mezzo pubblico che riduce l'inguinamento atmosferico riduce gli incidenti integra i salari anche dei lavoratori perché come è successo in tante altre occasioni si può pagare una parte del lavoratore una parte dell'impresa quindi diciamo che è un bel investimento questo ringraziamo ovviamente la regione quella di prima quella di oggi nella sua continuità istituzionale perché c'è sempre stata un'attenzione che è sempre più forte per questa vallata la città di pesaro entra a far parte dell'associazione delle città dell'olio un ingresso che viene inaugurato il 30 ottobre nel municipio di monte cicardo con un appuntamento previsto alla scoperta delle realtà o le aree del territorio siamo qui a presentare l'ingresso di pesaro dentro l'associazione nazionale città dell'olio e con questo primo evento che andiamo a proporre che avverrà in tutta italia il giorno 30 di ottobre proposto dall'associazione nazionale città dell'olio nel quale monte cicardo come municipio all'interno del comune di pesaro quest'anno aderisce è una richiesta che è stata portata avanti dal municipio con forza tramite daniele e la francesca gli assessori di riferimento abbiamo sul nostro territorio due frantoi molto importanti che sono qui presenti oggi e le presenteremo e delle culture ovicole abbastanza importanti quindi abbiamo deciso anche con la vicinanza di territori limitrofi che hanno la DOP sapete cartoceto a provare a spingere sul turismo dell'olio dell'olio extravergine di oliva anche per incentivare sia il turismo che la vendita di questi prodotti che sono comunque patrimonio della nostra terra il 30 di ottobre si svolgerà nelle aziende agricole di Marcolini e nell'azienda agricola del Conventino saranno intervallate una alla mattina da Marcolini e il pomeriggio al Conventino bisognerebbe fare una prenotazione in maniera tale che struttureremo meglio i gruppi si farà una passeggiata nell'oliveto con poi la visita al frantoio e una degustazione di olio visto che siamo all'interno dell'azienda mentre al Conventino dentro il Chiostro durante tutta la giornata ci sarà un mercato di produttori locali dalle 10 del mattino alle 8 di sera intervallato con dei laboratori, con delle esposizioni ci saranno delle dimostrazioni di intreccio di un nostro paesano per finire con un evento serale all'ora dell'aperitivo con Viva il Ball che farà delle danze popolari e delle musiche popolari proprio del nostro territorio c'è uno studio di musiche antiche che riguardano Monte Ciccardo, Villa Ogolini e Vallefoglia quindi tutto il territorio che ci circonda Allora, quest'anno è veramente una bella annata per quanto riguarda il discorso della raccolta delle olive tant'è che molti olivicoltori della zona hanno una carica eccezionale i prodotti sicuramente sono di altissima qualità e noi con il frantoio, oltre a lavorare le nostre olive facciamo anche servizio di mulettura contro terzi per gli olivicoltori della zona e in questo periodo stiamo lavorando 24 ore senza mai spegnere i macchinari quindi è sintomo di un fatto che quest'anno fortunatamente siamo stati baciati da una carica non indifferente di olive magari al contrario di quello che sta succedendo in altre zone lavoriamo per valorizzare le aziende del nostro territorio il 30 con Monte Ciccardo ci sarà questo evento di questa passeggiata tra gli olivi è fondamentale appunto pensare all'ambiente ai nostri prodotti gastronomici che non finirò mai di dirlo perché come notate spesso faccio appunto anche questi eventi collegati alle aziende del nostro territorio è un'opportunità e quindi siamo ben contenti di essere entrati a far parte di questa organizzazione e speriamo che in questo modo possiamo aiutare le aziende del nostro territorio Oggi a Dancona si è tenuto il primo consiglio regionale in presenza dei nuovi assessori Andrea Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni e l'insediamento di tre nuovi consiglieri regionali si tratta di Monica Acciarri e Lindita Elezzi della Lega e di Simone Livi di Fratelli d'Italia i tre prendono il posto di Antonini e Biondi diventati assessori e di Elena Leonardi diventata senatrice Restando in regione, il gruppo assembleare del Partito Democratico ha oggi depositato una mozione di sfiducia nei confronti dell'assessore regionale della protezione civile Stefano Aguzzi mozione sottoscritta anche dalla capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Marta Ruggeri mozione derivata dalle presunte gravi responsabilità di Aguzzi nella gestione dell'emergenza alluvione del 15 e 16 settembre scorso Nasce il progetto per ricreare e commercializzare su scala nazionale il famoso medicamento del Settecento che curò il tifo Provincia, Comune di Cantiano, Associazione Eco Fatto di Sant'Ippolito e l'azienda PRM di Treviso si sono incontrate questa mattina per ricreare il celebre Opo Balsamo di Cantiano ideato nel 1764 dalla famiglia cantianese Achilli In questo progetto che partirà a novembre saranno coinvolti anche gli studenti dell'Ipsia Benelli di Pesaro e una volta che il prodotto nella prossima primavera sarà industrializzato il ricavato sarà devoluto alla comunità della stessa Cantiano come segnale di vicinanza dopo l'alluvione E vi ricordiamo anche che domani torna il concorso al 75esimo Festival GAD Mercoledì 26 ottobre alle ore 21 al Teatro Sperimentale sarà in scena Tom, Dick e Harry proposto dall'Accademia dei Riuniti di Umbertide per la regia di Birgitta Roselletti Parte oggi la campagna di comunicazione delle buone pratiche a contrasto dei cambiamenti climatici attivata dal Comune di Pesaro che è tra le 13 città del progetto Campagners selezionate dall'Europa per le azioni attivate in tema di sostenibilità Vediamo di cosa si tratta in questa intervista dal vice sindaco di Pesaro Daniele Vimini Un paio di anni fa ci siamo aggiudicati l'ingresso in un Horizon 2020 l'Horizon per capirci un po' la Champions League della progettazione europea sono la linea principale con cui l'Europa finanzia progetti che tengono insieme le istituzioni e basti dire che per l'Italia gli unici soggetti che fanno parte di questo progetto Horizon 2020 legato ai cambiamenti climatici anche le buone pratiche delle città sono il Comune di Pesaro, il Comune di Milano e la Fondazione Mattei Deleni di Milano capofila all'Università di Dins soggetti che vanno da Città del Capo all'Università Irlandesi fino a Lima in Peru e tengono insieme comuni municipalità in alcuni casi di realtà più larghe metropolitane e università serve a scambiarsi le buone pratiche e quindi raccontare i propri asset specifici per il contrasto al cambiamento climatico e l'adattamento e ottenere finanziamenti per nuovi progetti in base a quelle che sono le proprie linee specifiche di azione noi abbiamo presentato in maniera molto apprezzata l'esperienza della Bicipolitana e anche della scuola che ha ottenuto l'Eat Platinum a Pantano per poter raccontare appunto casi specifici di politiche pubbliche veramente efficaci come Milano ha presentato altri progetti e via dicendo quello che presentiamo oggi in realtà che ha il titolo appunto di Pesaro e te è un progetto che coinvolge 20 milioni di persone in Europa e inizia da un sistema di rilevazione delle buone pratiche quotidiane dall'utilizzo della bicicletta a tutti i sistemi insomma domestici e anche di mobilità che contrastano le emissioni di CO2 e quindi contribuiscono all'ambiente e quindi diciamo è un grosso sistema di rilevazione che serve ora a monitorare il punto di partenza e servirà anche nel tempo a monitorare l'efficacia di queste azioni più generali che l'Horizon andrà a sviluppare incrementando le politiche pubbliche delle città in proprio modo europee Domenica scorsa a Gradara ha riscosso grande successo e grande interesse il convegno di divulgazione medico-scientifica delle associazioni 50 e più e terziario donna di Confcommercio che assieme a Stella Scarpa hanno radunato importanti relatori per indagare il tema della medicina personalizzata tema che svilupperemo in uno speciale che Rossini TV trasmetterà venerdì 28 ottobre alle ore 21.20 ma che intanto vi anticipiamo nel servizio realizzato da Antonio Astuti 50 più terziario donna SM EU Formula che sono le tre associazioni afferenti a Confcommercio hanno organizzato oggi in questa straordinaria location che è Villa Matarazzo nel comune di Gradara un convegno importantissimo sugli aspetti salutistici legati alla medicina personalizzata siamo quasi 8 miliardi di persone al mondo la medicina si pone delle frontiere totalmente innovative per entrare nel dettaglio di ciascuno di noi e individuare i percorsi di prevenzione poi di cura migliori il convegno di oggi si inserisce in un contesto lungo anni organizzato da queste tre strutture per entrare nel merito della medicina per studiare le nuove frontiere di un qualcosa che è davvero mirato a farci stare meglio tutti quanti negli anni andranno distinti dei concetti fondamentali c'è la medicina personalizzata da una parte c'è la medicina di precisione dall'altra concetti che spesso vengono confusi quasi si trattasse di sinonimi in realtà non è così la medicina di precisione analizza quelli che sono i bersagli molecolari all'interno delle cellule che ci consentono di andare ad individuare con precisione come dire gli interventi terapeutici che possono essere validi per questa persona o per quell'altra la medicina personalizzata invece è un ambito un po' più ampio nel senso che si occupa del paziente come persona laddove la persona è quella che può reagire alla patologia in una certa maniera piuttosto che un'altra per situazioni sue sociali per situazioni caratteriali addirittura per situazioni economiche cioè sono dinamiche particolari ampie decisamente più ampie rispetto a quelle che possono essere rilevabili soltanto con l'analisi genomi c'è un risparmio notevole in termini di spesa di salute quando la prevenzione è personalizzata inoltre la promozione della salute c'è uno studio statunitense una revisione di 72 studi un dollaro speso di promozione della salute ne fa acquisire 4 quindi noi dobbiamo puntare sulla prevenzione che è anche primaria secondaria terziaria cioè nel malato nel soggetto che è inizialmente malato e nel sano quindi sempre e questo tipo di convegni sono importanti perché danno una sensibilizzazione ai medici alle professioni sanitarie ma anche ai pazienti che sanno che possono inserirsi all'interno di un percorso che sia multidisciplinare ma anche interdisciplinare per la prima volta appunto personalizzato quindi qual è stato il nostro impegno è stato quello di mettere al centro del nostro progetto della nostra idea la persona che doveva usufruire degli trattamenti estetici abbiamo quindi ideato un macchinario che andrà a lavorare nell'estetica in determinate situazioni di età quindi parliamo del periodo menopausa ed andropausa quindi focalizziamo questo tipo di trattamento non solo nel periodo ma addirittura siamo andati oltre quella che viene definita la personalization siamo arrivati alla customization la medicina personalizzata credo che sia veramente un qualcosa da strutturare e da divulgare ecco perché siamo qui coinvolti oggi come associazione ma anche come imprenditori perché poi abbiamo un focus comune mi verrebbe da dire quello di valorizzare la persona quindi di mettere la persona al centro e quindi di conseguenza il paziente al centro la medicina personalizzata credo che sia veramente un approccio unico nel suo genere finalmente appunto si mette si valorizzano le persone in base proprio al proprio patrimonio genomico e alle proprie esperienze di vita la 50 e più si pregia di offrire loro non solo dei servizi in campo fiscale o insomma servizi di tecnici ma noi ci vogliamo anche proporre come rappresentanti e organizzazioni che tutela l'ultra cinquantenne ecco sotto questo aspetto proprio per questo motivo per tutelarlo organizziamo sia a livello territoriale che a livello nazionale diversi tipi di iniziative che hanno uno scopo ludico ma ricreativo ma anche culturale formativo ecco in questo percorso 50 e più da tanti anni organizza questi convegni in cui si faceva riferimento prima convegni che sono di tematiche mediche e relative al benessere delle persone con questi convegni cerchiamo sempre di essere innovative anche perché terziario donna come già ben sapete sono anni che si occupa anche di arte di cultura di corsi di formazione per cui le nostre imprenditrici sono preparatissime e tutto quello che portiamo all'interno poi ci piace portarlo anche all'esterno verso la cittadinanza un pubblico perché stare nel contesto sociale della nostra provincia per noi è molto importante e questa era l'ultima notizia prima di salutarci però vi ricordo gli appuntamenti in serata infatti questa sera alle ore 21.20 ci sarà lo speciale realizzato sul 75esimo GAD Festival Nazionale d'Arte Drammatica ancora in corso a Pesaro e questo è un piccolo assaggio realizzato dalle telecamere di Rossini TV nello scorso weekend e poi vi ricordo come sempre l'appuntamento per domani mattina con Buongiorno Rossini in diretta alle ore 7.20 con la rassegna stampa dei quotidiani della provincia di Pesaro Urbino e poi vi ricordo gli appuntamenti anche per i prossimi giorni giovedì infatti alle ore 21.20 ci sarà la diretta di Insieme a Canestro sul nostro canale 80 oppure potrete seguire la diretta sulla pagina Facebook di Rossini TV e potrete commentare in diretta al numero Whatsapp che vedete in sovraimpressione e infine vi ricordo l'appuntamento anche per il giorno successivo per venerdì 28 ottobre alle ore 19 in replica alle ore 23 con Spazzo Z e racconti della generazione Z con repliche anche nei giorni successivi e con questo è veramente tutto vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata e vi ringrazio